Ciao, mi chiamo She e la prossima domanda andrò in Uniterra a studiare Sport Management a Preston. Ho conosciuto Kiva International durante l'incontro a scuola e devo dire che mi hanno invitato veramente tanto perché grazie a loro sono riuscito a fare tutti i documenti e tutto quanto perché onestamente da solo ero totalmente in palo quindi non sapevo proprio come fare e quindi grazie a Anita abbiamo sviluppato la mia lettera motivazionale quindi abbiamo scritto i miei pro, i miei difetti e tutto quanto l'abbiamo mandata poi dopo che mi hanno accettato e mi hanno accettato poi alla fine abbiamo sistemato anche tutti gli altri documenti e quindi adesso abbiamo fatto tutto quanto e se vi passa la motività se tutto va bene il prossimo anno vado in Uniterra a studiare. Come ho detto prima andrò a studiare Sport Management che è praticamente economia quindi business applicato allo sport e ho scelto questo corso perché mi piace un sacco lo sport e tutte queste robe e quindi volevo studiare o l'economia legato allo sport oppure il lato giuridico legato allo sport e una volta terminati gli studi spero di trovare un lavoro, ho visto che ci sono varie opzioni quindi come agente sportivo quindi lavorare con i giocatori come scout anche come allenatore se voglio e quindi si spero di trovare un buon lavoro che mi piace da molto sportivo. Perché devo dire che avevano guardato così anche sbucciato all'inizio a livello di opportunità di come sono strutturate le università penso che sia quella che penso che sia la più data ai miei bisogni. Ciao! Grazie per la visione!